Napoli, Michignot, Howard, il blocco di Williams, si va da lui, ancora Giacori Williams e raggiunge la doppia cifra personale. Poglietti va da Howard che si prende il tiro in catch and shoot, a rimbalzo Davis, un'ottima energia la confermiamo. Howard per Williams, ancora una volta fa tutto da solo, stavolta fa tutto bene. Michignot, il blocco di Williams, Michignot la penetrazione, Michignot la stoppata e poi arriva Giacori Williams, schiacciatone importante e va a prendersi qualcosa, rivediamo quanto è accaduto, Ronsorocas che era stato bravissimo a stoppare Michignot, poi però è arrivato Giacori Williams che mostra i muscoli, mostra la faccia cattiva ai suoi tifosi, il nostro molto, molto, molto importante.